Sicuramente saranno due belle squadre che hanno onorato fino ad oggi il percorso del nostro girone di quarta serie. Nulla da dire al notaresco, io sono contento della mia squadra, manchiamo di diversi punti, però questa è una considerazione che facciamo noi da tifosi, però pieno merito agli adversari. Ma vi entrano cercelluti a Matio? Sì, anche perché il notaresco San Nicolò è del mio amico Salvatore Di Giovanni, quindi a lui auguro tutte le cose più belle di questo mondo. A partire da lunedì? A partire da lunedì, ma non si sia d'accordo anche lui, poi gli auguri ce li diamo dopo la partita per il futuro. Voi siete grandi amici, chiaramente si è amici, però poi per quei 90-95 minuti venga il migliore. Ma sicuramente sì, è chiaro, siamo amici perché c'è stima reciproca, credo. Quello che sta facendo lui lo sanno tutti, non è che lo devo dire io. È chiaro che domenica saremo avversari, però amici più di prima e poi venga sicuramente il migliore. E quindi speriamo che sia, come dicevo, un bel derby, soprattutto a livello agonistico di gioco e che il risultato, logicamente, sia a nostro favore a noi.